L'INAIL ci ha certificato 5 anni di amianto, ce l'ha certificato. L'IMS ci ha detto che c'erano i soldi. Siamo arrivati a 8 ottobre, i soldi non ce ne sono più. Lui è Rocco Pagano, operaio cassintegrato dalla ex firema di Tito, componentistica elettronica per le ferrovie. Vuole andare in pensione, ma non può. Eppure 40 anni di contributi li ha maturati in fabbrica. Altri 5, dice, gliele ha certificati l'INAIL. Ne ha diritto in quanto esposto per anni ai grevi rischi per la salute, anche quelli ai me certificati dell'amianto. Assieme a Pagano hanno protestato in 20 stamani davanti alla prefettura a potenza. Sono nelle stesse condizioni, diritto alla pensione dal biennio 2018-19 e non vogliono morire di lavoro. La quinta commissione bilancio del Senato ha bocciato l'emendamento sblocca pensione del decreto agosto e questo li ha mandati in collera. Abbiamo figli che studiano, tutti non ci sono soldi. Dicci che dobbiamo fare. Sono 36 lavoratori di Tito coinvolti, 16 gli esuberi della vecchia gestione, ma ci sono poi anche 80 dipendenti a Caserta e 260 in Italia. E direi che basterebbe poco all'Inps per far loro finalmente attaccare la tuta al chiodo. I soldi bastano poco, 3-4 milioni di euro. Il prefetto di Potenza, che ha incontrato i sindacati, conosce bene la questione. Da loro ci ha detto un'aspettativa già riconosciuta per legge. Manca però la copertura economica che dovrebbe arrivare con la legge finanziaria 2021. La copertura finanziaria che si sta ricercando, il Ministero del Lavoro ha già predisposto lo schema di un provvedimento che doveva già essere approvato ad agosto. Non c'è stata questa possibilità. Adesso la prospettiva è che passi con la finanziaria 2021.